Assolutamente, come al solito finiamo sempre per fare grandi proclami o nulla di fatto, anzi finiscono per fare grandi proclami o nulla di fatto. Ci attendevamo una scelta molto più coraggiosa, si era finalmente cominciato a parlare di quote che devono essere assolutamente obbligatorie, devono essere ovviamente proporzionali non soltanto alla popolazione ma anche alla capacità dell'economia anche di assorbimento da parte dei singoli paesi e invece sta miseramente naufragando non soltanto appunto il dramma maritario ma anche la soluzione che era stata proposta finora.